Non ci sono più le condizioni tecniche, amministrative e gestionali per poter proseguire l'attività anche in seguito ai rapporti tesi fra la Presidente e il Direttore che non consentono di operare in un clima sereno, fattivo e corretto. A Puglia Film Commission, una matassa da sbrogliare, approda ancora una volta in via gentile la gestione dei fondi pubblici per la cultura e lo spettacolo. Nelle scorse ore anche l'audizione in seconda commissione di Presidente, Direttore e Consiglieri di Amministrazioni della Puglia Film Commission, ha evidenziato una serie di attriti molto forti tra Simonetta Dello Monaco e Antonio Parente ai fericorti da quando lei lo accusò di aggressione caso per il quale è in corso un'inchiesta penale. La Presidente Brindisina non era presente in audizione a causa di un malore. Ad aggravare la situazione c'è anche una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che analizza gli ultimi mesi del CDA evidenziando lo stato di ingovernabilità della fondazione e chiedendo l'intervento dei soci. La stessa regione è 59 comuni e così succede come denunciano i consiglieri regionali di opposizione che a causa degli attriti in corso tra i vertici la macchina organizzativa della Puglia cinematografica si fermi o si inceppi e il liquido per oliarla resti nel suo contenitore se nessuno decide il da farsi. Il Presidente Emiliano per il momento non si sarebbe ancora esposto che qualche vertice della Film Commission abbia le ore contate è una possibilità ma va tenuto conto che la carica di Presidente dovrebbe essere rinnovata a ferbeio prossimo e che difficilmente si provveda a una riconferma come non è accaduto in passato tra i vari Presidenti che si sono avvicendati che sia alla fine dell'era dello Monaco.